Buonasera, intanto presentiamoci, siamo qua in cinto quest'oggi, la fa alla voce, poi abbiamo la Vale, ciao, la Lalli, la nostra amica Lalli, ciao bella, Elisabetta, però mi chiamo una Lalli, abbiamo la Lalli, Lady Gaga abbiamo qua di fianco, se l'hai ballata tutto il tempo, ciao Sara, ciao a tutti benvenuti, puoi fare la prova a microfono? Già fatta, promossa, funziona? Ci sentite? Ci siamo? Siamo pronti a partire? Ci stiamo ragazzi, perché sto cretando di caldo? E' fashion, però non c'entrano le scarpe, secondo me è Sara, che era la nostra inviata speciale per questo evento, messita di glicimi, messita